amici tifosi di nerazzurri bentornati è un altro appuntamento live live registrato ovviamente del post gara della nostra inter perdonate la voce ma gli ultimi minuti sono stati un po come dire un po belli 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 pieni di emozioni soprattutto per il per il calcio di rigore che è stato fischiato a vantaggio nostro rigore che era solare ma un arbitro indecente non so neanche di che federazione era di che campionato era quello di stasera non lo stava vedendo meno male che poi è stato fatto diciamo fermare i nostri giocatori che giustamente hanno protestato per un calcio di rigore solarissimo quindi dice già avverto gli ebeti da tastiera che invadono i social per dire il rigore il rigore il solito rigorino diciamo che era questo rigore era solare quanto il loro disagio totale che hanno diciamo nelle loro cartelle cliniche sportive che presentano ogni volta che parlano dell'inter e di quello che accade nel frattempo stanno scorrendo le immagini della partita che il napoli ha giocato nel pomeriggio facendo uno a uno contro l'union berlin e quindi e quindi comunque il napoli che comunque ha chance molto probabili di passare ha steccato diciamo la partita in casa ma soprattutto per la vittoria ecco poteva chiuderla prima questa qualificazione mentre dovrà andarsela a giocare in casa se non erro contro lo sporting braga e poi andare in quel di madrid nell'ultima partita no se non erro la prossima scusate real madrid real madrid napoli e quindi il diciamo che il napoli se la gioca tutta in casa contro lo sporting braga e quindi comunque secondo me è rimandata la qualificazione del napoli perché secondo me passerà però oggi l'union berlin ha tolto veramente ha tolto veramente dalla dalla portata di mano la vittoria ai alla squadra napoletana piccolo inciso su quello che è accaduto per la squadra un'altra squadra italiana che giocava nella champions league tornando all'inter la nostra inter l'inter ha vinto uno a zero finalmente per fortuna direi perché io sono molto onesto nelle nelle disamine delle partite ma dico la verità l'inter non mi è piaciuto affatto assolutamente è una squadra che vedo senza centro avanti una squadra che vedo senza attacco una squadra che con sanchez veramente fa le polveri bagnate avanti turam è un grande giocatore ma tira poco tira pochissimo molto molto poco rispetto a quello che potrebbe dare fare per la per per la squadra è normale che ho messo anche un po di luce perché non si vedeva è normale che l'inter poi si è affidata all'estero di lautono martinez che quando è entrato ha fatto vedere che comunque è inutile l'attacco è quello il problema che non hai niente in panchina è un arnautovic che veramente è un cadavere sportivo perché oggi in panchina va per fare presenza come nel 2010 lui frequenta le panchine di champion solo per da fare da spettatore quindi è un giocatore praticamente inutile e lo è stato sempre per la causa dell'inter inutile e lo è ancora adesso quindi un giocatore che per me non ha una valenza sportiva tatti tecnico tattica e ovviamente sanchez non è proprio quel suo ruolo perché gioca con un attaccante che si è un centravanti ma non è proprio un vero attaccante diciamo un bomber alla geco alla lucaco ecco giocatori che di quella stazza fisica che comunque fanno girare il pallone alzano la squadra è diverso comunque a parte questo l'inter nel primo tempo non ha prodotto molto ha prodotto molto poco azioni veramente belle ma troppo diciamo articolate alcune lente pessimo il centrocampo oggi c'ha la noblu molto a di sotto delle 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 sue capacità e lo possiamo anche perdonare per tutte le partite che sta facendo la grande ma oggi veramente ha steccato in una maniera pazzesca mkhitaryan lasciamolo stare perché mkhitaryan veramente oggi è stata veramente qualcosa al mio punto di vista qualcosa di indosceno indecente proprio il nulla cosmico a centrocampo anche carlos augusto veramente sembra che giocassi in ciabatte ma un giocatore che è lontano da quello che abbiamo visto quindi gli va gli va dato certo non vanno non vanno colpevolizzati però oggi vanno criticati perché è giusto che vengono criticate anche loro quando vengono giocano bene vengono molto esaltati ma è giusto anche prenderli di mira quando le cose non vanno bene è oggi sportivamente andata bene vincendo pur facendo una prestazione veramente non proprio da da sufficienza però ripeto a parte a parte questo a parte questo ripeto l'inter con c'era anche frattesi chiedo scusa frattesi un primo tempo scialbo anche quello suo ma ripeto tutto il centrocampo non è girato non c'è un giocatore io mettere i tre centrocampisti da veramente i peggiori ma molto peggiori del primo tempo bella bellissima la la prova della difesa la difesa ha retto tanto ha retto bene ha giocato bene bravo sommer bravo i tre di dietro bisse che ha fatto una buona partita seppur partendo con qualche con qualche diciamo intanto se c'è intanto c'è bastoni nemmo bastoni sicuramente un orgoglio indossare la fascia che hanno indossato tantissimi campioni ringrazio l'auto e bar stasera per avermela concessa ma ripeto siamo siamo un gruppo talmente bello talmente unite che chiunque può indossarla quindi c'è proprio piacere nello stare insieme nel lavorare insieme stasera l'importante era vincere per per centrare la qualificazione l'abbiamo fatto sono arrivati sei punti con il salisburgo ma è corretto dire che questa squadra è quella che vi ha messo più in difficoltà quest'anno sì in realtà anche anche la real società sono partiti sono partiti molto forte abbiamo fatto molta fatica l'ha da proprio quello che dicevo avevamo già affrontati nel nella precision quest'estate avevamo visto il potenziale che avevano sono sono molto giovani corrono tanto ci hanno ci hanno messo in difficoltà siamo stati bravi a resistere nel nel primo tempo dove loro hanno messo grande intensità abbiamo portato a casa tre punti importanti sta partita secondo te è un ulteriore step di crescita per una squadra che oggi ha avuto anche la pazienza di sapere aspettare perché era molto molto chiusa la red bull salisburgo sì sicuramente un ulteriore step che stiamo facendo giocando insieme da tanto stiamo stiamo capendo che le partite ci possono vincere anche anche verso la fine l'abbiamo fatto diverse volte quest'anno dobbiamo dobbiamo continuare a crescere così e dunque avete sentito bastoni in in diretta e ovviamente chi la chi la sentirà indifferita è il post gara di bastoni io sono d'accordo con lui quando dice che la sala di salisburgo ha giocato una partita veramente di intensità perché nel primo tempo l'inter come dicevo non ha fatto granché infatti proprio il centrocampio è andato in difficoltà proprio perché il salisburgo ha giocato veramente 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 bene al al calcio non di queste trame da real madrid però comunque ha messo intensità e tanta voglia che nel calcio non sono mai poche però è stata brava l'inter a reggere proprio con bastoni forse un filino sotto a a cerbi e bisse che dicevo e aveva incominciato bene molto bene poi purtroppo si è fatta ammonire e ovviamente il nostro allenatore o fenomeno di piacenza deve sempre fare la sua come dire la sua genialata togliendo bisse che mettendo devrai e quindi togliendo un giocatore che fino a quel momento è stato poi è stato quello quello più pericoloso ecco diciamo del 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 dell'inter ripeto ragazzi e il primo tempo è stato così brutto veramente brutto da vedere ma non perché l'inter non abbia giocato male proprio perché certi giocatori andavano veramente a rilento e soprattutto non hanno giocato proprio alla loro potenzialità può essere anche che questi impegni molto ravvicinati soprattutto quello con l'atalanta che era uno snodo fondamentale per il campionato oggi l'abbiamo pagato tanto a livello di prestazione fisica però mi tengo io ecco mi tengo stretto la vittoria mi tengo stretto la difesa che ha giocato alla grande mentre c'è c'è il fenomeno fenomeno di bonucci pasta del capitano acqua fresh eccolo qua vedete colluttorio il colluttorio eccolo qua per 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 bonucci che si riesce a cuore la bocca sempre il fenomeno qua mamma mia che personaggi dicevo parliamo di calcio serio e non di clown bisseca ha fatto ecco questa partita molto buona l'inter ripeto ha solo binzaki ha avuto questa questa decisione di toglierla poi nel secondo tempo le cose sono cambiate perché l'inter ha preso molto molto più campo e la tecnica è uscita piano piano con la pazienza di cui diceva prima siani nell'intervistare bastoni l'inter ha avuto molta pazienza con questa pazienza è arrivata al gol che arriva sì sul calcio di rigore ma arriva con tante azioni prodotte tanto pressing loro non uscivano più poi siamo stati bravi noi a recuperare palla il rigore era netto era nettissimo poi l'inter una volta in vantaggio quei cinque sei minuti li ha gestiti veramente 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 bene e ha portato a casa un risultato veramente importante che la qualifica agli ottavi di finale con due giornate d'anticipo ma la proietta anche al mondiale per club del 2025 io stendo un velo pietoso per il mondiale per club che per me è una gran buffonata per i soldi e per tante altre cose ma non è non è calcio perché il mondiale per club anzi l'inter continentale per me rimane la vincente della champions league contro la famosa vincente della coppa libertadores si giocava a tokyo quelle sono le 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 vere coppe intercontinentali di una volta che hanno fatto veramente la storia del calcio e non queste buffonate per creare solo soldi per far giocare altri giocatori per far fare tournée in proprio ne sa troppo 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 pesanti però va bene poi ne parleremo comunque le solite porcate alla in stile fifa uefa quindi è tutto qua ripeto ci proietta con due giornate d'anticipo l'inter adesso andrà a giocare con il benfica ed è una partita che adesso come si dice in questo caso ce la godremo tutta quanta con molta tranquillità perché viene a cavallo con la juve prima con le diciamo dopo la juve quindi c'è juve inter il 26 il 29 c'è benfica inter e il la domenica dopo benfica inter c'è napoli inter quindi quella partita praticamente in zaghi può può veramente gestirla alla alla grande detto questo ragazzi che dire ci siamo ci siamo qualificati è andata bene c'è andata molto molto bene in un girone dove doveva diciamo doveva dominare il benfica e l'inter e anche la real società dovevano diciamo tirarsela la diciamo la la qualificazione purtroppo registriamo l'eliminazione del benfica che l'anno scorso arrivo agli ottavi di finale con agli quarti finale con tantissimo tantissima diciamo carica agonistica mentre quest'anno deve abbandonare mestamente sia la champions però è ancora in corsa per la l'europa league perché il salisburgo a tre punti e ancora ancora raggiungibile secondo me la real società vincerà il girone l'inter arriverà seconda secondo per quello che che penso e poi niente poi 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 si deciderà tutto nel ecco nel nella fase a scontri diretti ottavi quarti perché poi lì può arrivare secondo primo se sei fortunato di gira la stella buona tu sei già ecco se sei dentro e puoi e puoi fare puoi passare ecco senza problemi bisogna avere solo fortuna nel pescare e sperare che tutto vada vada per il meglio ecco tutto qua per il resto niente ragazzi sto vedendo le immagini delle lights del real madrid in questo momento quindi siamo in una pseudo live sto vedendo real madrid braga real madrid impetuoso oggi dopo lo 0 a 0 con col raio vallecano braim diaz che che fa che fa il gesto del bar è una cosa è una cosa proprio da da vomito totale proprio vabbè giocatore scandalosamente buffone proprio più buffone di lui non ce ne sono mamma mia adesso c'è anche l'esultanza da varma che roba penosa ragazzi roba triste proprio mamma mia vomitevole proprio vabbè niente va bene ragazzi io vi saluto vi vi niente vi vi do appuntamento alla prossima live del di un post gara ci sentiremo per interfrosinone domenica vediamo se per domenica riesco a fare una live subito prima della gara la facciamo dopo la gara vorrei tanto farla dopo la gara se siete d'accordo me lo scrivete qui sotto i commenti vi 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 ricordo di far iscrivere degli amici vostri al canale se vi fa piacere interisti così parliamo ancellotti che risulta come se avesse vinto la champions league e niente tutto tutto qua per il resto ripeto ci sentiamo alla prossima live ricordo che l'inter ha vinto questa questa partita contro il salisburgo per 1 a 0 ricordo che mi sono piaciuti come ho detto anche nel questo video mi sono piaciuto tanto la difesa sommer l'attacco lautaro e turam che hanno fatto una gran partita anche se turam purtroppo è un attaccante che non è che dira molto però lautaro entra e fa tanta roba ogni volta che entra però ripeto meritata meritata la vittoria perché l'inter l'ha cercata con la pazienza non è andata in crisi nei momenti in cui poteva andare in crisi ma l'ha portata ecco in porto meritatamente dunque l'inter si qualifica noi andiamo avanti vi auguro una buona notte e mezzanotte passata no mezzanotte meno 10 io vi auguro una buona notte veramente sogni sogni d'oro con una qualificazione in tasca con due giornate d'anticipo a prescindere dall'allenatore e l'inter che vince voi lo sapete in zaghi non lo dirino mai quindi è inutile parlare di in zaghi li ha vinto l'inter e questa è la cosa più importante quindi diamo merito alla nostra squadra di aver passato il turno in champions league ci proiettiamo contro il frosinone che sarà una gara molto difficile perché il frosinone è squadra che gioca segna e produce produce calcio quindi prepariamoci per per domenica e niente poi arriveremo al countdown di domenica piano piano leggeremo un po' speriamo di recuperare qualcuno di far giocare qualcuno vediamo un po' se arnautovic il fenomeno di bologna il tellino obeso di bologna farà qualche qualche minuto e niente tutto qua buonanotte forza inter alla prossima ciao ragazzi ciao